Diavolo sì ce l'hai fatta! Dopo anni passato sui libri ti sei finalmente laureato! Ti hanno passato ad un contratto indeterminato nell'azienda dei tuoi sogni! Congratulazioni! Nell'arco di qualche anno sarai sicuramente disoccupato. Questo è il tono con il quale negli ultimi tempi si sente parlare un po' ovunque di intelligenza artificiale, ma è davvero così? Ci stiamo veramente lanciando di testa verso il baratro del mondo del lavoro e per di più senza averne reale consapevolezza? Beh, la risposta è sì, anche no. Molti figure professionali ad oggi largamente diffuse cesseranno di esistere, questo indubbio molta gente perderà il lavoro e il tasso di disoccupazione mondiale salirà alle stelle, o questo almeno in teoria, perché dipenderà tutto da noi e da come sapremo reagire a quest'imminente rivoluzione che sta per investire la nostra società. Che cosa intendo dire? Ve lo spiego tra un attimo in questo nuovo video direi estremamente complicato, nel quale andremo a toccare con mano da vicino il mondo del lavoro, parlando dei 10 impieghi più 1 bonus che non soltanto a parer mio saranno i primi a scomparire. But first of all, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Come sempre il vostro doc al microfono è gente, spiace dirlo, ma le cose stanno per cambiare, radicalmente anche. Realtà internazionali come Amazon, Google, Meta, Microsoft e compagnia cantante stanno licenziando da diverso tempo e senza tregua i loro dipendenti, gettando ancora più incertezza sul mondo del lavoro. E sebbene ciò sia colpa, in parte, di surplus, tagli, adeguamenti e quant'altro, l'avvento delle intelligenze artificiali non migliora affatto la situazione. Da lì, mi giorni, chat GPT, Microsoft Designer, Adobe Firefly e via simili ci hanno mostrato come sia possibile generare immagini, testi, righe di codice e mille altre cose nel tempo di pochi clic, facendoci capire indiscutibilmente come, contrariamente a quello che abbiamo sempre pensato per centinaia di anni, il fattore umano sia totalmente sostituibile. O forse no. Parliamoci chiaro, molte cose stanno per cambiare, mentirei sostenendo il contrario, ma gente, vi dice nulla il concetto di rivoluzione industriale. No, perché qui è null'altro che la storia che si ripete, anche allora c'era il timore che l'avvento delle macchine avrebbe significato la morte di moltissime figure professionali e in realtà anche così è stato, letteralmente, anche se per meglio dire si è assistito ad una mutazione delle stesse. Per citarne uno, l'artigiano manovale che è diventato operaio in catena di montaggio. L'avvento delle allora nuove tecnologie ha fondamentalmente costretto gli esseri umani, la società del tempo, ad evolversi e creare nuove realtà, nuove possibilità e raggiungere vette fino a prima mai nemmeno sperate. Ed è proprio questo, in mio modestissimo parere, lo spirito con il quale dovremmo accogliere l'avvento delle intelligenze artificiali. Cioè, gente, stiamo per avere tra le mani strumenti incredibili che ci consentiranno di facilitare o sopperire totalmente a migliaia di quei compiti sui cui perdiamo quotidianamente un sacco di tempo. Bellissimo, così dicendo, non fosse per il rovescio della medaglia di cui stiamo andando a parlare proprio oggi, ovvero il prossimo divenire superfluo di decine, centinaia e migliaia di quei lavori e figure professionali, tutte per quanto ne sappiamo, che ad oggi riteniamo fondamentali. Il guaio, gente, però, è che ogni cosa ha un prezzo e questo è quello del progresso. Per cui, gente, siamo con le spalle al muro. L'era delle intelligenze artificiali è iniziata e non possiamo fermarla. Per cui abbiamo soltanto due opzioni, soccombere o cambiare. E credo che la scelta sia ovvia. Pensate a quando sono state introdotte le prime fotocamere dotate di scheda di memoria invece che di rullino. Cambiamento epocale, eh? Ci mancherebbe. Ma dinanzi al quale ci si è trovati a un bivio. Taluna e azienda hanno abbracciato il cambiamento, divenendo poi i colossi che noi oggi conosciamo come Nikon, Sony e Canon, mentre invece tal'altra hanno deciso di respingerlo finendo come sono finite. Ed ecco qui che alcuni di voi potrebbero obiettare che tutte le tecnologie fisiche, come le memorie flash, ovvero quelle che mantengono inalterata la propria natura fino all'intervento dell'uomo, siano ben diverse dalle intelligenze artificiali, ovvero software in grado in gran parte di apprendere e migliorare autonomamente se stesse. E che dire gente, avete pienamente ragione. Per quanto la logica di fondo sia assolutamente la medesima, la creazione di un sistema autonomo basato su di un'intelligenza artificiale alimentata da un processore a rete neuronica online il 4 agosto. Ma scherzi e citazioni di Terminator a parte gente, prendete quanto vi dirò nei prossimi minuti con le pinze, perché sto registrando questo video oggi basandomi sull'attuale realtà delle AI in circolazione, ma se queste dovessero divenire senzienti e scegliere di sterminarci tutti, ehi, cioè la mia opinione cambierà quantomeno di un cicinino. Ancor più che davvero gente, la domanda non è più se l'intelligenza artificiale cambierà qualcosa, questo lo diamo già per assodato, quanto più come sarà possibile per le aziende sfruttarla a proprio vantaggio in modi che abilitino ma non sostituiscano la forza lavoro e quanto più cerchino di valorizzarla, perché per ognuno dei 10 lavori più uno che tra poco andrò a delencare di che saranno investiti in pieno dall'avvento di questa tecnologia come un tiro in piena faccia, sarà possibile crearne il doppio, il triplo, il quadruplo, quelli che volete, ma questo solo e soltanto se gli imprenditori, le aziende o chi per loro saranno in grado di comprenderne la natura e sfruttarla a proprio vantaggio. Ma detto ciò, come promesso, veniamo ora al punto dolente di questo video, i 10 lavori più uno che secondo me, ma non soltanto, assolutamente, non soltanto secondo me, saranno i primi ad essere colpiti dall'avvento delle intelligenze artificiali. Primi in assoluto nemmeno a dirlo, con lo sviluppo della guida autonoma, auto e veicoli senza conducente stanno divenendo una realtà sempre più attuale, sicura ed sfidabile, a causa della quale la presenza di autisti umani all'interno, non so, di mezzi di trasporto come anche corrieri, postini, piloti e quant'altro, diverrà totalmente superflua. Per esempio, negli Stati Uniti esistono già una serie di progetti di questo tipo, come i robotaxi prenotabili via app o anche soltanto i droni di Amazon per le consegne. Inutile che ve lo dica, le conosciamo tutti quanti, oltre che personalmente, non fosse che ogni tanto devo pagare coi buoni pasto per i quali le casse automatiche non sono abilitate e andrei solo da queste ultime. Cioè, parliamo, genegente, sono di una comodità assoluta e permettono di fare la spesa in totale autonomia senza piantare radici ogni volta che la nonnina di turno si mette a contare gli spicci nel portamonete per arrivare a 372 euro a colpi di 1 a 2 centesimi. Spiace dirlo, ma sarete quasi certamente la categoria più rapidamente colpita dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Questo perché è un chatbot ben strutturato, come se ne vennero davvero già ovunque, è nettamente meglio in termini di gestione, costi e operatività rispetto ad un dipendente in carne e ossa. Cioè, capitemi, nulla in contrario alle persone che fanno questo lavoro, ci mancherebbe altro, ma mettiamoci per un attimo nei panni di una possibile azienda che riceve giornalmente, non so, 100.000 richieste di assistenza per lo stesso identico problema. Per quale ragione dovrebbe andare ad assumere N persone, N dipendenti in carne ed ossa, quando con un singolo e unico chatbot può svolgere lo stesso compito a costo nettamente inferiore? Anche qui spiace dirlo, ma siamo agli sgoccioli. Sono già innumerevoli le aziende che si stanno avvalendo di sistemi di stoccaggio, movimentazione e prelievo merci automatizzati. E l'avvento dell'intelligenza artificiale non sta facendo altro che alimentare la cosa come benzina sul fuoco. E niente, non c'è altro da dire, gente, fondamentalmente. E se pensate che questa tecnologia sia un appannaggio unico delle big tech americane, beh, vi state sbagliando di grosso. Anche qui, gente, la differenza purtroppo è lampante. Per quale ragione un'azienda dovrebbe assumere N dipendenti in carne ed ossa per svolgere un lavoro che può essere fatto ugualmente da un singolo unico assistente digitale? Cioè, pensate al caso di un imprenditore che ogni mattina si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di Equitalia per portare a casa il pane, che invece di contattare il proprio assistente per farsi organizzare la giornata spiegandogli cosa deve fare, come, dove, quando, in che modo e bla bla bla, può fare lo stesso in una decina di minuti comodamente dal proprio smartphone, ad esempio anche solo mentre fa la cacca? Perché pagare qualcuno per accogliere i clienti, check-in, check-out, illustrargli dove passare la giornata, dove cenare, in quale ristorantino, quando puoi fare la stessa cosa con un assistente virtuale che alla Jarvis maniera risponde ad ogni tua domanda? Come ho detto, anche qui la differenza lampante. Siamo realistici, da qui a pochissimo tempo l'organizzazione e i consigli per i nostri viaggi verranno sempre più demandati a sistemi automatizzati, che non sono limitati dalla propria conoscenza ed esperienza di quel determinato argomento, ma possono attingere liberamente ad un enorme database contenente tutti i luoghi più fantamirabolanti, unici e divertenti del creato associandoli automaticamente alle richieste di ogni specifico cliente. Mettiamo il sottoscritto, ad esempio, adoro la storia, stravedo per tecnologia, manga, anime e animazione di ogni genere e voglio fare vacanze attive all'insegna del movimento. Prendo queste informazioni e le do in pasto all'intelligenza artificiale in turno che in meno di 10 secondi mi sputa fuori un itinerario perfettamente in linea con le mie esigenze che non sia il classico viaggio in Giappone che mi vedrai somministrare in una qualche agenzia. Ah, e tutto questo presumibilmente con una commissione estremamente più bassa. Se stavate pensando di uscirne in lesi vi siete sbagliati. I software per la selezione e la gestione del personale stanno diventando sempre più avanzati e sono in grado non soltanto di testare le skills, le abilità di ogni singolo candidato, ma anche di leggerne il linguaggio non verbale e le espressioni facciali di modo da riuscire a tanarlo qualora stia mentendo oppure non abbia la minima idea di cosa gli avete appena chiesto. E piccola parentesi che vi piaccio o meno in questo modo si andrebbero ad eliminare tutti quei bias con i tidi e preferenze del caso che gli addetti alla selezione potrebbero avere anzi meglio dire spesso anno nel momento in cui ti presenti dinanzi a loro e che ti portano a finire il colloquio ancora prima di averlo iniziato. Certo sarà probabilmente necessaria un'ultima approvazione da parte del selezionatore di turno in carne e ossa, ma volete mettere la comodità per un'azienda? Decine, centinaia, migliaia forse di possibili colloqui al giorno senza la necessità di doverli fare di persona e soprattutto senza leggere i curricula? Cioè impagabile! Anche qui gente, l'automazione dei processi più elementari come la gestione di documenti, report, presentazione, fatture e contratti di vario genere ad oggi è facilmente demandabile, software automatizzati, come ad esempio vedete Copilot, il nuovo progetto di casa Microsoft che ha riscritto la natura stessa della creazione di documenti, slide, macro e database del pacchetto office. Per quale ragione pagare una o più persone per fare tutto ciò quando con un singolo ed unico software automatizzato si può fare esattamente la stessa cosa e probabilmente in meno di metà del tempo? Anche nell'attualissimo conflitto russo-ucraino è realtà l'impiego di tecnologie dotate di intelligenza artificiale, droni autonomi o pilotati da remoto, torrette a fuoco automatico, bombe intelligenti e via simili, ma come anche più nel concreto, più nel quotidiano, la polizia cerca qualcuno, videocamera, scansione facciale, retina, impronte, tracciamento dei pagamenti e tac in mezzo secondo ti ritrovi accerchiato, ginocchi a terra e mani dietro la testa. E se da un lato ciò consente di ridurre la morte di agenti e militari sul campo plus indiscusso, dall'altro segnerà la modificazione totale e definitiva di questo ennesimo impiego. Introdotta già da qualche tempo, nell'ultimo periodo l'intelligenza artificiale ha mostrato eccellenti risultati nella traduzione sia di testi scritti che in simultaneo, ovvero quindi mentre n persone discorrono tra loro. Grazie agli algoritmi di apprendimento automatico, infatti, l'IA può facilmente interpretare sia testi che dialoghi con un'accuratezza spaventosa, relegando agli interpreti il solo compito, per ora, di poterne interpretare, diciamo, le sfumature del discorso, ovvero quindi toni, sarcasmo, prese per i fondelli, sentimenti e quant'altro. Ma non escludo che anche qui nel breve futuro le cose andranno a cambiare. Una categoria nella quale penso superbamente, forse, di rientrare anch'io in quanto content creator. Nell'ultimo periodo, l'abbiamo visto, c'è stata una rivoluzione vera e propria nella creazione dei contenuti grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale, la quale ha trasmesso alle masse un messaggio tristemente chiaro, ovvero che non vè reale necessità di artisti in carne e ossa. Personalmente non sono affatto d'accordo, noi esseri umani siamo in grado di trasmettere emozioni un qualcosa di insostituibile, cioè prendete il sottoscritto ad esempio, taluni mi amano, pochi, tal'altri no e altri ancora volevano spaccarmi le ginocchia. Qualunque sia il vostro sentimento nei miei confronti, sempre di emozione si tratta. Per questo ritengo che forse, erroneamente, almeno in questo campo noi esseri umani saremo sempre un pochino più avanti dell'intelligenza artificiale. Parliamoci chiaro, gente, la situazione non è delle più rose, questo è certo, ma non è il primo e non sarà, credo, nemmeno l'ultimo cambiamento epocale che ci troveremo a dover affrontare come razza umana, come genere umano, perché in tal caso avremo davvero toccato il fondo dell'evoluzione. Sono felice dell'avvento delle intelligenze artificiali, mentirei se dicessi di no, il lato mio che ama la tecnologia è vivo e fervente dentro di me, ma al contempo sono pienamente d'accordo che quest'imminente rivoluzione vada presa con le pinze e ponderata fin nei suoi più minimi dettagli, soprattutto nei risvolti futuri, sia certi che probabili. Come al contempo trovo profondamente sbagliato per i non addetti ai lavori, per gli inesperti in materia, io per primo, attenzione, perché non mi occupo di intelligenza artificiale, demonizzarla come la prossima causa di estinzione di massa della razza umana. Cambieremo noi, cambierà la nostra società e soprattutto cambierà il modo in cui noi ci approcciamo ad essa, ma questo, ve lo ricordo, è avvenuto sistematicamente ad ogni rivoluzione che ha segnato la storia dell'umanità. E qui vado a concludere con una riflessione che suonerà, credo, abbastanza demagogica e stupirà non poco le persone che mi conoscono dal vivo, ma sebbene la tecnologia possa regalarci velocità, comodità e mille altre cose impagabili, so che non dobbiamo dimenticare come esseri umani e che ci servirà da chiave di volta per non farci soverchiare da queste intelligenze artificiali è l'interazione sociale. Non dobbiamo dimenticare il valore dell'essere umano, del fattore umano. Unica differenza che ci contraddistingue dalle macchine ci tiene uniti come specie, laddove invece questi nostri schermi tattili colorati puntano invece ad allontanarci sempre di più l'un l'altro. E niente gente, questo è quanto. Cosa ne pensate dell'avvento delle intelligenze artificiali? Vi sentite minacciati a livello lavorativo oppure no? Cosa ne pensate di un prossimo video sui 10 impieghi più uno che invece non risentiranno minimamente del loro arrivo? Arriviamo a mille like, promesso ve lo schiaffo sul tubo in meno di mezzo secondo! E come sempre io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via! Io sono Doc, questo è T-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale! T-Support e noi ci vediamo!